Benvenuti in questo nuovo video, in questo video sto scendendo da casa per andare a scuola Allora in questo video vi parlo un po' della partita di oggi, Napoli-Sampdoria Allora io penso che finirà con un risultato molto importante Ci sarà sicuramente il gol di Guagliarella che a queste occasioni non mancherà mai Sicuramente non mancherà il suo gol, la sua timbra ci sarà sempre Io penso che segnerà anche oggi Niente, comunque, forza Napoli, giochiamo e lottiamo Perché la Sampdoria adesso è ferita, ha zero punti e quindi dobbiamo giocare Loro se la giocheranno alla pari Comunque, iscrivetevi al canale e attivate la campanella Più tardi, analisi più importante della partita Ciao